Il presidente della Roma, James Pallotta, donerà 230.000 euro per restaurare la fontana del Pantheon. Sarà un gesto ovviamente straordinario che depone a favore di questa straordinaria città che è Roma, capitale d'Italia. Lo avrebbe annunciato proprio oggi, 11 aprile 2018, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, accogliendo proprio Pallotta al Campidoglio. C'è stato questo incontro e proprio Virginia ha detto ai cronisti che Pallotta donerà questa cifra piuttosto cospicua per il restauro della fontana del Pantheon ubicata proprio nella città eterna. Un gesto, ripeto, molto buono che conferma quella che è comunque il senso civico che Pallotta già di suo possiede e che fa in modo che la città di Roma torni a, in minima parte, risplendere di luce propria. Grazie, in primis per l'ascolto, in secondis per la visione del presente video, vedremo quello che accadrà. Intanto questo sarebbe quanto, complimenti a James Pallotta per il gesto che compie per la città di Roma ed anche per il fatto che comunque ieri avvento questo match importante in Champions contro il Barca, contro il Barcellona, in casa nostra, quindi all'Olimpio. Infatti tra Roma versus Barcellona, Roma ha fatto tre gol contro il Barca. D'Aleandro, Arias Naradori, D'Aleano è tutto, un salutone e al prossimo video, complimenti a Pallotta.